Ah! Ti ha spaventato? Sì. Ah ah! Ti ha spaventato! Ti ha spaventato! Bravo! Io sono Ayama, una Videogirl. Piacere di conoscerti. Allora, che vogliamo fare? Sottosterò i tuoi desideri. Di noi, sta tranquillo Yota. Noi Videogirl non siamo fatti per innamorarsi di qualcuno di particolare. Voleva celebrare il vostro primo appuntamento indossando l'abito che le hai regalato Sai Yota. Credo di aver trovato un altro di più pregi. Poi, quando... Alla faccia è la capacità di sintesi. Quando c'è il video che mi inizia... Come era? Non me lo ricordo. Cos'è che gli ho detto ieri? Alla faccia è la capacità di sintesi. Yota, coraggio, svegliati. Quando dice lui, nel resto non la parola. La battuta di Sanio sarebbe dunque. No. Non la mettiamo.